Musica Buongiorno, benvenuti al TG2000, l'edizione delle ore 12, vediamo subito i titoli. Dieci anni fa la strage alla ThyssenKrupp di Torino, morirono sette operai, una ferita che non può rimarginarsi, dice il capo dello Stato Sergio Mattarella. La politica con le tensioni tra Piero Grasso e il PD, ma soprattutto Maria Elena Boschi, che ora prepara querelle dopo l'accusa di aver mentito al Parlamento sul caso di Banca Etruria, in cui è coinvolto il padre. Il cristiano deve avere uno stile di vita umile, come quello di Gesù, che ha sopportato l'umiliazione più grande, così Francesco, nella consueta messa matutina a casa Santa Marta. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, sette operai morirono nell'incendio della ciaieria della ThyssenKrupp a Torino. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna proprio oggi su questa tragica vicenda, ricordando che c'è ancora molto da fare nel campo della sicurezza sul lavoro e ribadisce ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società. Nicola Ferrante. Sono della ThyssenKrupp in corpo regina. Sono scendere, se c'è un interio, ci sono due o quattro ragazzi bruciati. Quattro bruciati o carbonizzati? Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnere senza vestiti del paziente. E' esploso qualcosa? Ma ha preso fuoco ogni pianto, qua c'è della cassa. Dieci anni da quella notte maledetta, fra il 5 e il 6 dicembre del 2007, quando otto operai dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino furono investiti da un getto di olio bollente in pressione che prese fuoco. Uno morì subito, per altri sei si arrivò fino a quasi un mese di lenta agonia. Uno solo sopravvissuto. Alcune delle vittime stavano lavorando da 12 ore, erano cioè in straordinario già da quattro ore. E le testimonianze di altri operai hanno sempre puntato il dito contro i sistemi di sicurezza. Estintori scarichi, idranti inefficienti, anche per le otto squadre di vigili del fuoco poi intervenute. Oggi, a dieci anni dalla tragedia, il presidente Sergio Mattarella scrive in una nota che è un diritto del lavoratore e un dovere della società che siano rispettate le norme di sicurezza. Mattarella scrive uno a uno i loro nomi e aggiunge E' giusto ricordare i loro nomi perché è una ferita che non può rimarginarsi accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro. In questi anni sono stati fatti passi avanti sulla prevenzione degli incidenti ma resta ancora molto da fare per considerare la sicurezza un volano allo sviluppo. Su fronte giudiziario dopo dieci anni la vicenda è conclusa eppure resta aperto l'ultimo atto, l'incarcerazione dei colpevoli. Nel 2008 i familiari delle vittime accettano un accordo in merito al risarcimento. Nel 2011 la sentenza di primo grado per omicidio volontario con pene a partire da 16 anni per i dirigenti tedeschi. Passano altri due anni e arriva l'appello. L'accusa di omicidio viene ridotta da volontario accolposo quindi anche gli anni di carcere vengono dimezzati. Dal 2014 un rimpallo fra Cassazione e appello trova l'ultima parola nel 2016 con danni definitive. I manager italiani entrano in carcere ma i due dirigenti tedeschi stando a quanto chiarito poche settimane fa dal fatto quotidiano sono ancora in libertà in attesa che la Germania attui la sentenza italiana. Novità nel caso Catalogna. Poco fa il giudice Pablo Iarena del Tribunale Supremo Spagnolo ha ritirato il mandato d'arresto nei confronti dell'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e dei suoi quattro ministri che si trovano con lui in Belgio. Una scelta dovuta al fatto che i cinque componenti del deposto governo della Catalogna hanno mostrato la volontà di rientrare in Spagna. Il ritiro del mandato d'arresto evita anche che ci sia più di una giurisdizione europea sul caso. Ovviamente seguiremo tutti gli sviluppi. I carabinieri di Palermo hanno arrestato la moglie del boss Madonia. Secondo gli investigatori stava riorganizzando Cosa Nostra nel dopo Riina. Con lei sono state arrestate altre 25 persone. Stando agli investigatori oltre al pizzo nei confronti dei commercianti del centro città l'organizzazione progettava di uccidere un mafioso colpevole da avere patteggiato la pena. Alessandra Camarca. Nuovo colpo alla mafia di Palermo con una donna boss de Madonia in manette e uno sguardo sul dopo Riina che fa capire come i vuoti di potere si riempiano subito e come il controllo del territorio fra intimidazioni e pizzo da parte di Cosa Nostra rimanga nonostante gli arresti. Un maxi blitz ha visto impiegati oltre 200 carabinieri nei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana con 25 persone in manette. Le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale e ricettazione. L'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ricostruisce gli assetti e le dinamiche criminali delle famiglie mafiose di Palermo. Tra gli arrestati c'è anche Maria Angela di Trapani, moglie dello storico boss di Resuttana, Salvino Madonia. La donna è ben conosciuta dalle forze dell'ordine, i pentiti hanno già parlato in passato del ruolo di Maria Angela tanto che la donna venne arrestata nel 2008. Per gli inquirenti reggeva le sorti del clan mentre il marito, Plurier Gastolano, era detenuto al 41 bis riuscendo a portare all'esterno gli ordini che il boss mandava ai suoi dal carcere. Condannata a otto anni ha scontato la pena, figlia del boss Ciccio di Trapani e sorella di un altro boss Nicola era soprannominata in famiglia Apicciridda, la piccolina. Moglie di Salvino, killer dell'imprenditore Libero Grassi, sfruttava i colloqui in carcere col marito e i cognati entrambi capi mafia e gastolani per mantenere i contatti dei familiari col clan di Resuttana guidato dai Madonia, dei tempi in cui a comandare era il suocero di Maria Angela Francesco. Dall'inchiesta dell'arma viene fuori il ruolo attuale della donna che avrebbe preso le redini del clan e il peso che la famiglia Madonia continua ad avere a Cosa Nostra. Ancora cronaca a Livorno dove i carabinieri insieme alla Guardia Costiera hanno arrestato il comandante e proprietario di un motopeschereccio accusato di avere spinto in acqua un ragazzo extracomunitario arruolato abusivamente per sfuggire ai controlli dei Guardia Coste. Al pescatore è stato contestato anche il reato di caporalato perché sistematicamente avrebbe impiegato mano d'opera irregolare composta da cittadini di vari paesi africani sottoposti a condizioni di sfruttamento. Andiamo adesso negli Stati Uniti dove la Corte Suprema si è espressa a favore della piena applicazione del bando con il quale l'amministrazione di Donald Trump ha imposto stretti limiti agli ingressi negli Stati Uniti per cittadini provenienti da sei paesi a maggioranza musulmana. Luciano Piscaglia. Alla fine la Corte Suprema ha dato ragione a Donald Trump. A tutela della sicurezza dei cittadini il Presidente ha il diritto di chiudere le frontiere ad alcune categorie di stranieri. Il Muslim Ban, il decreto presidenziale che congela i visti a chi proviene da otto paesi a rischio terrorismo è ora legge dello Stato. La Corte Suprema ha rovesciato tutte le sentenze dei livelli inferiori della magistratura americana che avevano accolto i ricorsi presentati per l'incostituzionalità della norma considerata come una forma di discriminazione religiosa. Degli otto paesi interessati al Muslim Ban infatti ben sei sono a maggioranza musulmana. Il via libera alla legge è però temporaneo perché la Corte Suprema ha annunciato che sull'eventuale discriminazione religiosa si pronuncerà solo successivamente. Intanto la decisione della Corte sostiene la dottrina sulla sicurezza di Donald Trump, un documento che ogni amministrazione deve presentare e che correggerà profondamente quanto disposto dai presidenti Bush e Obama. La dottrina di Trump sarà basata su quattro principi. Proteggere gli americani e il territorio nazionale portando a 700 miliardi di dollari il bilancio del Pentagono, promuovere la crescita economica degli Stati Uniti tagliando le tasse e riportando nel paese produzione e lavoro, preservare la pace attraverso l'uso della forza, contrastare il terrorismo in Medio Oriente. Nel mirino della dottrina sulla sicurezza di Trump ci sono Cina, Russia, Corea del Nord e Iran indicati nel documento come i principali avversari degli Stati Uniti. Rimaniamo all'estero per dare notizia di una bomba esplosa a bordo di un autobus nella città di Homs in Siria, a riferirlo alla televisione pubblica siriana secondo cui nell'esplosione sarebbero morte almeno due persone mentre nove sono i feriti. È stata colpita dall'attentato un'area già sotto controllo del governo. Adesso la pagina politica che con le polemiche tra Piero Grasso e il PD ma soprattutto lo scontro che vede contrapposti Maria Elena Boschi accusata di aver mentito al Parlamento sulla vicenda di Banca Etruria. La prossima campagna elettorale sarà una battaglia all'ultimo voto. Il segretario del PD Renzi non nasconde le difficoltà e la vicenda banca è unita alla discesa in campo del presidente del senato Grasso rischia di diventare pericolosa per il partito. Dopo aver spinto per la cacciata del governatore di Banca Italia Visco la vicenda Etruria e il coinvolgimento del padre della Boschi manda in aria i piani del Nazareno. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi prova a contrattaccare e annuncia anche l'azione civile contro Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera per quanto scritto nel suo ultimo libro sulla vicenda Etruria. Mi aspettavo l'annunciata querela per diffamazione da sette mesi la risposta del giornalista e la commissione d'inchiesta sulle banche potrebbe convocare il ministro dell'economia Padoan il governatore di Banca Italia Visco l'ex amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni e nuovamente il procuratore di Arezzo Rossi finito nella polemica e accusato di omissione sulle indagini a carico del padre della sottosegretaria. La vicenda banche dunque avrà un peso nella campagna elettorale come l'avrà Pietro Grasso dopo la sua incoronazione al leader del nuovo movimento Liberi e Uguali e occhi puntati oggi proprio alle scelte che farà Grasso nel corso della Capigruppo al Senato che stabilirà il calendario dei lavori. Il timore del PD è che Grasso voglia forzare la mano per dare precedenza alle norme sulla cittadinanza lo Ius Soli a danno di quelle sul fine vita il Biotestamento per mettere così in difficoltà il partito di Renzi. Alunni italiani promossi in lettura con un ponteggio medio di 548. Gli scolari di quarta primaria superano la media dei paesi oxe e dei paesi europei nelle prove di apprendimento della lettura. è quanto emerge da un'indagine condotta dall'invalsi su 3.900 bambini nell'ambito di una rilevazione internazionale che mette a confronto 50 paesi. Le ragazze ottengono un punteggio superiore a quello dei ragazzi. Nord-Ovest e Nord-Est raggiungono punteggi medi significativamente più alti della media nazionale mentre il Sud e le Isole punteggi più bassi. Parliamo adesso dell'allarme siccità perché il CNR pubblica i dati su quello che è stato l'anno più secco dal 1800 ad oggi. Un dato dovuto in particolar modo al calo delle piogge. Maria Sara Farci. Fiumi senza acqua e pesci costretti a bocceggiare nelle pozzangre. Basterebbero queste immagini a testimoniare quello che nei fatti è stato l'anno più secco dal 1800 a oggi. A confermarlo però ci sono i dati diffusi dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR. Un'annata da ricordare è quella del 2017 con un deficit di piogge di oltre il 30% rispetto al periodo di riferimento che va dal 1970 al 2000. Per trovare un dato simile bisogna tornare indietro al 1945. Anche in quell'anno ci furono 9 mesi su 12 con piogge ben al di sotto della media. Oltre all'assenza di pioggia però il 2017 verrà ricordato anche per essere il quarto anno più caldo dal 1970 con una temperatura di 1,3 gradi in più rispetto alla media. Più afosi sono stati solo il 2003, il 2014 e il 2015. Considerato ad oggi l'anno più caldo di sempre. Temperature che non hanno di certo aiutato le già difficili condizioni idriche del nostro paese. Il caldo ha infatti accentuato l'evaporazione e la perdita di acqua dai bacini e dai laghi. Basterà ricordare l'emergenza acqua che ha rischiato di mettere in ginocchio la capitale con il lago di Bracciano ancora oggi ai minimi storici. A Malta 10 persone sono finite in manette con l'accusa di aver ucciso lo scorso 16 ottobre la giornalista Daphne Caruana Galizia facendo esplodere la sua automobile. Restano molte ombre riguardo all'indagine. Francesco Durante. Unità armate in azione nella città di Marsha, sud dell'isola di Malta. Vengono arrestate 10 persone sospettate dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. La giornalista d'inchiesta e blogger anticorruzione uccise il 16 ottobre scorso dall'esplosione di una bomba situata nella sua macchina. Nel filmato diffuso dalle forze dell'ordine e dalla polizia maltese si vedono i sospetti criminali mentre giacciono a terra altri invece vengono perquisiti con le mani alzate contro un muro. Il primo ministro maltese Joseph Muscat ha dichiarato di avere una chiara idea di chi siano e di cosa abbiano fatto gli arrestati tutti i cittadini maltesi e con precedenti penali. La polizia li aveva seguiti da tempo prima del blitz di ieri mattina a collaborare nelle indagini, le FBI, l'Europol ed investigatori finlandesi. Nell'operazione sono stati impegnati elicotteri, cani da fiuto e una moto vedetta. Sono più che mai determinato a chiarire l'omicidio come ho detto subito dopo il verificarsi di questo atto barbaro, ha assicurato Muscat. Non lasceremo nulla di intentato. Ma sulla vicenda ci sono ancora molti punti oscuri. Daphne Caruana Galizia nelle sue inchieste si era occupata del coinvolgimento di maltesi nei Panama Papers in scandali petroliferi intangenti e nel traffico internazionale di droga, accusando politici un ministro e la moglie del premier Muscat. La corruzione è ormai ovunque, la situazione è disperata, aveva scritto la blogger poco prima di essere uccisa. E i sette deputati del Parlamento europeo, incaricati di far luce sull'assassinio della cronista, hanno affermato di essere seriamente preoccupati per lo stato di diritto a Malta. L'umiltà è una dote indispensabile nella vita del cristiano. Lo ha sottolineato questa mattina il Papa nell'Omelia, nella messa matutina celebrata nella cappella di Casa Santa Marta. Francesco ha ricordato che il compito del cristiano è custodire il germoglio che cresce in noi, custodire lo spirito, ma soprattutto deve avere uno stile di vita come quello di Gesù, uno stile di umiltà. Qualcuno crede che essere umili, ha osservato il Papa, sia essere educato, cortese, chiudere gli occhi nella preghiera. No, essere umili, ha detto Francesco, non è questo, ma significa accettare le umiliazioni. Umile è quell'uomo, quella donna che è capace di sopportare le umiliazioni come le ha sopportate Gesù, l'umiliato, il grande umiliato. Ha concluso Francesco. Il nostro giornale termina qui, io vi lascio come sempre all'approfondimento terza pagina, vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona giornata.